In quanto riguarda la scelta del nostro setup live abbiamo tentato e provato molti precisi dall'amplificatore a una chitarra in linea, anche perchè la nostra strumentazione oltre al line 6 che è tutto rosiano è composta da amplificatore di marcia, da amplificatore, il classico settaggio da gruppo metal, pre-valvolare, finale valvolare la scelta del line 6 del pod è stata una scelta azzardata perchè abbiamo ricevuto anche un po' di critica quando uno passa da una tecnologia vecchia a una nuova c'è sempre il passaggio e la critica ma cosa fate, il suono è finto, noi questa cosa ci piace e continuiamo ad andare avanti così abbiamo scelto dei suoni che ricalcolano i suoni del disco per riproporli live anche perchè la difficoltà molto spesso, quando andiamo a sentire il concerto diciamo gli ascoltatori o più bello sembra il disco, perchè non farlo anche noi? quindi il modo più semplice per raggiungere questo risultato è riproporre il setup che abbiamo in studio è composta dal LensX dal pod, nel mio caso pod XT, il suo pod X3, li può porlo live con i stessi suoni quindi non abbiamo nessun tipo di problema e non ci facciamo nessun scrupolo a usarlo anche perchè riceviamo complimenti ultimamente perchè non è tanto che stiamo usando i bordi dal vivo, sono circa 5 minuti e diciamo la scelta fino adesso per quanto mi riguarda ha pagato perchè ad ogni live ci sono molte persone che dicono i suoni di chitarra sono definitissimi, sembra il disco, quindi è esattamente quello che volevamo ottenere con questo setup uso un 6 corde che va direttamente sull'amplificatore, quindi senza le menate tecnologiche che usano questi due il 6 perchè già da molti anni lo suono e lo studio fondamentalmente per la mia passione iniziale per i Dream Theater quindi fondamentalmente mi sono avvicinato al 6 corde per questo perchè? perchè... non gradisco perchè chiaramente per poter rifare quel recover mi serviva lo strumento pluricordato ecco adesso che mi sono evoluto anche a livello proprio di gusti musicali sia appunto anche di preparazione personale trovo il 6 corde uno strumento molto versatile perchè oltre ad essere appunto con 4 corde posso utilizzare i colori normali di un basso e dei colori chiaramente anche più cattivi chiaramente più bassi, molto più bassi di suono, di limbro anche usando appunto il si basso e invece dei colori che possono servire molto durante l'improvisazione o durante appunto delle parti solistiche soprattutto che sono quelle corde più alte fondamentalmente è così io concepisco il 6 corde fare del basso uno strumento solista per me è un po' una... no, c'ha nel senso ci sono molti generi che prevedono il basso solista il jazz, ovviamente pace all'anima di Pastorius, chiaramente però nel metal soprattutto il basso solista può essere un po' di troppo quindi quelle corde oppure certi suoni oppure certe cose le lascio quando ho il mio spazio io non ho una scelta vera e propria per quella che è la strumentazione live in quanto spesso suoniamo con altri gruppi quindi diciamo la base della batteria, cassa, tom e timpano è sempre quella che c'è e questo non è un problema tanto una volta settata, regolata la pelle, suona per quanto riguarda la scelta del rullante che a mio parere è un pezzo fondamentale perché comunque definisce il suono e il beat quindi la giusta botta del rullante dà la carica al pezzo per quanto riguarda appunto il rullante ho la fortuna di essere endorser per un artigiano di utile Michele Stocco, infatti della Stocco Drums che mi ha dato un bellissimo rullante in mogano che ha un suono ultra definito è sempre perfettamente accordato nonostante ho lo suono molto forte ed ha un'ottima resa anche il microfonato sopra e sotto come ad esempio è successo stasera per i piatti invece utilizzo dei piatti artigianali americani sempre di cui sono endorser della Saluda Symbols lui è un artigiano del Connecticut e fabbrica i piatti direttamente per i batteristi sia comuni persone che li comprano sia sia un endorser mi ha fatto dei piatti molto particolari infatti per esempio il ride che utilizzo è molto pesante ed ha un suono molto acido cosiddetto ping molto metallico che è più definito rispetto agli altri tipi di ride un po' più difficile da suonare perchè pesa al tocco però ha un bellissimo suono i due China che utilizzano un suono molto acido che ricorda il sound di Richard Christie su The Sound of Perseverance quindi si sposa molto in alcune parti del nostro genere e poi i due comuni di Crash da 17 che hanno un bel sustain con un sound che dura parecchio ma che è molto dinamico nelle parti in cui mi devo abbassare per il resto non sono uno dei più batteristi che pensa che tra Dio bisogna per forza portarsi sempre la propria batteria montarla settarla è tra virgolette anche se più faticoso molto divertente suonare con quello che c'è e mettersi alla prova tutte le sere cercando di dare il meglio su differenti setup penso che aiuti molto a crescere sono stati sono stati sono stati